ecco a voi un cane possessivo purtroppo del cibo guardate le reazioni guardate smette di mangiare guardate teso coda tra le gambe guardate com'è teso guardate smette di mangiare come respira respiro affannato avete visto cerco di togliere la ciotola e lui morde fermo sei seduto sei seduto seduto fermo 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 seduto seduto che